Arriva la prima linea cosmetica biotecnologica di alta gamma basata sull'utilizzo delle benefiche e specificità dello zafferano che si coltiva nel comune di Navelli. Giovedì alle 10 all'Aquila nella sala Cesare Rivera di Palazzo Fibioni, sede del comune, ci sarà la conferenza stampa di presentazione di questa prima linea cosmetica. La collezione zafferano, che prende il nome del loro rosso di Navelli, è prodotta dalla neocostituita azienda aquilana Tindora Cosmetics. Il progetto nasce dall'idea di due imprenditori del capoluogo regionale, Fiorella Bafile e suo figlio Matteo Iannucci, con l'obiettivo di valorizzare l'Abruzzo e il territorio, incendivando l'occupazione giovanile, sia assumendo risorse all'interno di Tindora, sia promuovendo la produzione locale di questa spezia tra i giovani produttori che vorranno fare investimenti. Parte del ricavato di ciascuna confezione venduta andrà a finanziare l'acquisto di bulbi di zafferano che la cooperativa Alto Piano di Navelli fornirà a titolo di prestito d'onore a giovani produttori che vorranno avviare nuove coltivazioni di zafferano nell'area DOP dell'Aquila, in modo da incentivare e sostenerne la produzione.